secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie superare le moto di... adesso no l'obiettivo bro non è più entrare in top 100 è superare le moto di Omifra è quello l'obiettivo è quello l'obiettivo lo step successivo a Fra perché qua c'è qualcun altro che in Italia dal nulla ha voluto riprendersi qualcosa che era già suo ma che era lì in costo dito ed è la posizione nella top 100 più alta italiana e bro era lì ferma eh era lì ferma sì mi sembra ovvio bro ovvio ovvio ma va bene così è giusto è giusto così bro se no non ci sarebbe tutto il pepe non ci credo sono sono veramente... mi sta venendo la nausea mi sta venendo Luke ma qualcuno può dire a Luke che non c'era Irish Potluck porco dio è da mezz'ora che glielo ripeto e continua a spammare in chat Luke dio cane 10 minuti te l'ho pure detto cazzo cazzolina più ci sbatti la testa e più ci torni a sta slot però non ti lamentare poi eh c'hai ragione Mirko grazie Tommy per il prime comunque benvenuto cazzolina Luke tu ti ho detto che non c'è quella cazzo di slot Gabe puoi fare gli auguri al mio amico Diego? la sua pizzeria sta fallendo e non se la passa bene ha deciso di non pagare più le bollette a dio cane lo denuncio bella Diego che mi spiace bro mi spiace assai caspita oh questo è un per su tutti dai che è bollente è bollente cazzo è bollente cazzo dai e sono 5 euro va bene va bene non si buttano via Ludo come è il Germano? siamo a 1800 di saldo sono al buco of gold oh questo paga un sacco dici troppo bro sono troppi sono troppi sono troppi sono ninja bro che cazzo dici bra 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 bro non si vedono più guarda va va su alle stelle va va alle stelle cazzo va alle stelle va alle stelle va alle stelle va alle stelle bro che cazzo dici bra ma serpe tu sei un pisciazza la serpe la serpe tu sei un pisciazza tu sei un pisciazza sei sei un pisciazza sei godone lati qui dìmo quella di Omi sale un botto anche quella eh sì ma non è in live lui no? non è in live secondo me la stanno spammando da qualche parte nel suo canale la stanno spammando andiamo a vedere ma se la tua la spammano in un altro canale la racconta lo stesso non c'è tipo quel canale lì che aveva di quelle di qwerty esatto non è neanche qwerty hai già controllato tu bro la stanno spammando in qualche canale segreto bro perché vogliono farci vogliono farci a gara bro vogliono fare ma come fanno non ho fatto a sapere è arrivata l'informazione è arrivata l'informazione probabilmente guarda bro continua a salire eh incredibile sale tanto di brutto 7, 8 eh no un po' più lenta della tua eh bro mica tanto eh ah no adesso no eh dipende da che ritmo va la mia abbiamo un sacco di VIP in chat ci sono tutti ci sono un botto di VIP ci sono al andreid zuli arcade blade bomba sociale bomba loom boston brulitz cannon non scostel zenosene manu gaming fragger hype zeta color zandox iulia iachiale king of the king luca vitto marcolino matteo saba memento pagnotta panzerotto samune broski xanna c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra ma lo capisci subito quando esce il bonus perché tipo si muove tutto si eh tre per vabbè sono un bonus un giro in più c'è un fondo verde o c'è un altro un altro wild cambia o c'è un altro wild come se ci fosse il verde il wild è come se un jolly esatto come se ci fosse il verde o il rosso si capisci qua ci mettevi un wild al posto di una barata blu era l'otto era l'otto era l'otto prendeva però per il docker respin devi mettere due wild per forza grazie a dio no grazie a dio no madonna avrei cosa ho appena visto vergognatevi veramente cioè non ho parole 3000 euro volati così bah qua avete veramente esagerato quasi di cattivo gusto ora è l'ultimo poi io vado a dormire è la serp per cosa devo dirti bro ho una birra come no bevi ogni tanto sono d'accordo brava hai ragione poi alla finestra tra la mia chat c'è un sacco di gente che è modificata nel senso Omia Tole è sempre stato tra i top 5 canali con cui condividevo più spettatori quindi comunque un po' di gente che lo segue lo sa però secondo me appunto avendo visto da me sta cosa hanno detto probabilmente magari anche Querti hanno detto no 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 siamo era lì a quella posizione stavano bene lì capii hanno visto sta cosa hanno detto mica sti cazzi la dobbiamo ricarriare di brutto però l'obiettivo nostro non è superare Omi va bene va bene lì un per due amichevole amichevole vai non fermarti su non fermarti un più dieci non male non male oddio oddio è esploso signori miei è esploso va bene FMagic te lo offrirò bro andiamo a festeggiare insieme la nascita l'ingresso nella top 100 niente non ha pagato un cazzo io proverei a mandargli altri 100 spin massimo ci caccerà un altro rock in le spin che magari paga sto giro un dieci per amichevole amichevolissimo ma che sbocco ma che sbocco cazzo che cazzo di sbocco oh 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 cos'è sto rumore non capisco non capisco non capisco dioporco 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 ma come cazzo non puoi va bene sfigato di merda va bene